Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In Fipili invece rallentamenti tra la Strassign e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni per il protrarsi della segnalazione di alert del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi. La circolazione sulla linea faentina è interrotta tra le stazioni di Marradi e Faenza per tutta la giornata. Previste corse bus sostitutive. Si ricorda inoltre che a causa di uno sciopero nazionale il servizio di trasporto pubblico locale oggi non sarà garantito dalle 14.30 alle 22.30 di oggi. Coinvolto anche il servizio tramviario di Firenze con due scioperi che potrebbero provocare disagi per tutta la giornata. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!